e ciao a tutti ragazzi e benvenuti benvenuti carissimi videotubisti sono sempre io Mujedin l'ultimo dei talebani napoletani benvenuti su questo nuovo video benvenuti su steam seeker è nato finalmente un nuovo motore di ricerca dedicato completamente ai videogiochi ma prima di andare a vedere di cosa si tratta mi raccomando per chi non lo avessi ancora fatto iscrivetevi al canale cliccate pollice in su lasciate un commento e non dimenticatevi di attivare la campanellina per le notifiche come ben sapete quanto è importante un motore di ricerca si basa proprio di un algoritmo legato in genere a un sito web dove praticamente va a ricercare le cose più attinenti alle parole che voi inserite e da questo ne scatoliscono tante cose per esempio nell'ambito dei videogiochi sulla piattaforma steam che è quella più famosa relativa ai videogiochi ogni volta che cerchiamo qualcosa entra in gioco quest'algoritmo ma quello che cerchiamo è sicuramente ciò che ci interessa di più o qualche volta diciamo viene in qualche modo condizionato ed orientato verso quello che sono delle aziende che magari pagano un qualche cosina per essere su in classifica per dare un maggiore rilievo ai propri prodotti ed è qui che nasce proprio l'idea di steam seeker ricordo che steam seeker trovate il link in descrizione è completamente gratuito ed è nato perché perché gli sviluppatori prevalentemente di videogiochi indipendenti vengono letteralmente sepolti dalle ricerche di steam anche perché ultimamente è stato rilasciato un algoritmo di steam diverso che è diventato veramente estenuante per quanto riguarda le ricerche e le complessità a cui vengono sottoposti insomma gli sviluppatori qualche settimana fa mi ha scritto jordan fair che è uno dei tre sviluppatori di we need to go deeper un gioco veramente molto molto carino e vi lascio il link in descrizione dateci un occhio che cosa ha fatto ha codificato da zero un motore di ricerca per videogame soltanto per i videogame per i giochi della piattaforma steam è un motore di ricerca che sarà sempre completamente imparziale in tutto quello che fate cioè non sarà mai influenzato da sponsor società richieste e quant'altro uno diciamo è finalmente una soluzione perché non contiene un diluvio di asset finalizzati praticamente al guadagno e non alla ricerca di quello che può veramente interessarti un nuovo motore di ricerca steam che trova solo giochi reali ma tratta ogni gioco indipendentemente dalle dimensioni dalle pubblicità che ha in modo che ci sia una parità tra i vari contendenti ma adesso passiamo praticamente alla sostanza facciamo qualche ricerca insieme ci rendiamo conto che effettuando delle ricerche allo stesso modo con la piattaforma steam e con steam seeker vedremo dei risultati completamente diversi e addirittura più di una volta sono finito su dei videogame che non avevo mai visto che non avevano mai proposto semplicemente perché nel sistema di ricerca di steam magari era alla quattromilesima posizione quindi è veramente steam seeker qualcosa di molto importante mi raccomando condividete il video il più possibile in modo che questo prodotto non inquinato puro come la sorgente del monte degli dei possa finalmente prendere il volo e diventare uno strumento quotidiano per tutti per cercare veramente quello che ci interessa quello che desideriamo senza essere dirottati o influenzati dai vari publisher e ok passiamo proprio a effettuare una ricerca quindi questo è il sito principale steam seeker.com ne ho trovate in descrizione come dicevo prima partiamo molto semplice e intuitivo ok quindi qui facciamo la nostra ricerca inserirei qualcosa come voglio sono curioso voglio capire voglio vedere un card game ok card game ed ecco qui qui e questo è il primo risultato andiamo su steam dall'altra parte e scriviamo la stessa cosa card game cerca vediamo ed ecco come vedete le due ricerche saranno completamente diverse il primo eternal game card game scusate went orim e via discorrendo tutti quanti poi c'è cards vedete sono praticamente una serie di prodotti card shank questo pure è molto bello ok andiamo a vedere adesso invece la proposta di steam seeker che ha un algoritmo diverso e non è influenzato dai publisher qui vedete ci sono praticamente dei giochi che non risultano proprio dall'altra parte perché sono nel catalogo sicuramente ma a quale posizione e devo dire che veramente è veramente veramente interessante questa 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 questo sistema tra l'altro c'è solitarica che lo ha ci ho giocato ed è veramente molto molto bello card dungeon e se cliccate insomma sulle ricerche ovviamente vi apriva proprio la pagina steam perché il database punta sempre a quello che è steam quindi veramente molto bello uno che è uno dei giochi in assoluto più venduti secondo me veramente una cosa mostruosa e interessante veramente interessante tra l'altro i primi due sono proprio card apocalypse non mi ricordavo neanche di averlo visto veramente riesci a trovare delle soluzioni diciamo diverse ragazzi fruttatelo perché può essere veramente un modo diverso di interpretare e vedere le cose con questo è veramente tutto mujahideen l'ultimo dei talebani napoletani vi ringrazio vi saluto a presto e ciao ciao ragazzi